Sindaco, come commenta la lista degli affittuari del Pio Albergo Trivulzio? Io mi auguro che l'erenco sia completo. Ho chiesto e continuerò a chiedere trasparenza, completezza sui criteri con i quali vengono assegnati e sui successivi criteri con i quali vengono monitorati per controllare che non ci siano affitti che continuano troppo a lungo o che vengono dati in subaffitto. Quindi un controllo pieno e totale, naturalmente in rapporto al luogo, alla metratura e ai costi di mercato. 19 anni dopo Tangentopoli, Milano è altrettanto corrotta? Milano è una città che ha sempre saputo reagire a tutte le difficoltà che ha avuto e anche alle brutte pagine che Milano ha avuto. Però Milano è una città capace di reagire e quindi sono certa che anche in questo caso, avendo tra l'altro il Presidente consegnato le liste appena avuto il benestare dal garante, credo che sia la dimostrazione che c'è una volontà piena di collaborazione. Comunque vigileremo perché questa collaborazione sia veramente piena, totale e totalmente trasparente. Pensa di chiedere le dimissioni dei dirigenti del Pio Albergo Trivulzio? Cerchiamo di vedere quali sono i risultati, quindi prima vediamo i nomi in relazione ai canoni, alla metratura e al luogo nei quali ci sono questi affitti. Vediamo se i canoni sono di mercato, vediamo se sono adeguati, quindi prima facciamo un'analisi attenta, quindi non facciamo i processi senza avere prima analizzato i fatti. Se i fatti non saranno quelli positivi, sicuramente come io ho sempre fatto, prenderemo tutte le iniziative del caso. L'ho sempre fatto, l'ho fatto nel caso di assessori, di consiglieri comunali, di revisori dei conti, di vigili e quindi continuerò a farlo. Secondo lei potrebbero emergere problemi simili anche nei criteri di assegnazione delle case popolari? I criteri delle case popolari sono assolutamente trasparenti, fatti con bandi pubblici e criteri che sono assolutamente trasparenti e pubblici.